In apertura apriamo con le immagini di una maxi simulazione di un incendio di un treno in galleria. Conclusa alle 4 la maxi simulazione che appunto ha servito a testare il processo di gestione delle emergenze. Le immagini ci sono state fornite dalla TUA, un test importante per la TUA, quello che si è concluso alle 4 di questa mattina nella stazione di Rete Ferroviaria Italiana di San Vito Lanciano. Si legge nella nota un test altrettanto importante per Rete Ferroviaria Italiana RFI ma anche per tutta la macchina dei soccorsi che ha avuto l'opportunità di scandaliare in dettaglio uno scenario incidentale ferroviario piuttosto complesso. La stazione di San Vito Lanciano di RFI diventa il centro nevralgico della simulazione. Oltre 100 persone coinvolte dalla prefettura di Chieti al gruppo FSI. Ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, il servizio di emergenza sanitaria del 118 di Chieti, il compartimento di polizia ferroviaria per le Marche, l'Uberia e l'Abruzzo, il comune di San Vito Chietino, il NUE, 112 Regioni Abruzzo alla protezione civile abruzzese e le forze dell'Orientate. Intanto state vedendo le immagini e vi ricordo che si tratta di una simulazione. La tua con il proprio materiale rotabile e il personale operativo e gestionale è l'impresa ferroviaria oggetto dell'esercitazione. La simulazione è stata inserita sia nel piano annuale delle attività esercitative del gruppo FSI relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa per gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri sia nel sistema di gestione e di sicurezza dell'impresa ferroviaria tua nell'ambito della gestione delle emergenze. I provvedimenti per le emergenze devono essere regolarmente testati in collaborazione con le altre parti interessate e aggiornando necessità, ha spiegato Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria della tua. Ma quale lo scenario incidentale simulato? Lo stiamo vedendo nelle immagini. Sul treno regionale tua 23939, un nuovissimo ETR 104 Alstom intitolato a Gabriele D'Annunzio, si determina un'avaria tecnica a causa del malfunzionamento di un carrello frenante della prima vettura e si registra un principio di incendio. Il treno si ferma a circa 300 metri dall'imbocco della galleria San Giovanni in Bocco Nord senza superare il picchetto limite delle manovre della stazione RFI di San Vito Lanciano e lancia dunque la chiamata di emergenza. All'interno del treno sono presenti il macchinista, il capotreno e una trentina di passeggeri. Il macchinista rimane intossicato, c'è da gestire una situazione complessa nel cuore di una galleria nel quale tra l'altro i passeggeri devono essere coordinati, tranquillizzati, guidate. Sono fasi molto delicate. Il capotreno della tua attiva l'emergenza, il DCO di RFI mette in moto la macchina dei soccorsi e dunque l'intervento in galleria da parte dei vigili del fuoco con un mezzo bimodale del comando provinciale di Chieti e il personale del 118, tre ore circa, nelle quali si concentrano tantissimi aspetti di sicurezza e non solo. Questo scenario simulato, conclude Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria della tua, ci permette di testare in campo una serie di procedure fondamentali nelle nostre attività di sicurezza. Lo ripetiamo ancora una volta, questa è una simulazione ma quanto mai ben in caso e speriamo di no di una emergenza vera.